Il derby siciliano lo conquista la fortitude agrigento. I bianco-azzurri davanti al pubblico amico hanno battuto il trapani seppur di misura. Il punteggio finale è stato di 64 a 62. La mancata avanti per circa mezz'ora nel finale si era poi fatta recuperare ma grazie ai canestri di Simone Pepe ha messo la freccia e è tornata in vantaggio mettendo in cascina punti importanti in chiave playoff. A fine match ecco le parole del coach Franco Gianni. Una prima metà nella quale direi abbiamo condotto con grande qualità e con grande precisione il gioco sia sotto il profilo tattico sia sotto il profilo dei ritmi conducendo anche con margini importanti, con margini che qualora confermati ci avrebbero consentito anche di ribaltare la differenza canestri. E' chiaro che costringere i nostri avversari a 18 su 62 dal campo significa che in difesa abbiamo fatto bene, significa che l'idea di aiutare, raddoppiare, scalare ha tolto abbastanza continuità ai riferimenti ai tiratori, credo che oggi abbiano fatto una delle peggiori percentuali al tiro da tre punti del campionato senza che noi peraltro subissimo in maniera esponenziale un giocatore importante che può essere offensivamente devastante come Renzi. Per cui direi che sotto il profilo difensivo abbiamo fatto una grande partita su tutta la linea. Sotto il profilo offensivo abbiamo fatto due primi quarti eccellenti e due secondi quarti dove abbiamo subito un po' troppo l'incremento di aggressività e di fisicità della loro difesa.